Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Guidare con prudenza per la pioggia in A1 tra Sassomarconi e Incisa-Reggello e sull'intero percorso della Direttissima e sulla Fipili tra Firenze e Livorno. Per quanto riguarda i treni, a seguito dell'allerta meteo, la circolazione dei treni oggi sarà sospesa nella tratta tra Marradi e Faenza, previste corse con bus e con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale. Sempre per i treni, la riapertura della stazione di Siena e la graduale ripresa della circolazione sono previste a partire da stamattina. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!